Viene della Corea del Sud, 20 anni, Chung Wong Ben. Eseguirà nell'ordine di Piero Niro, notte per l'Ipizar, per violino e pianoforte. Di Ludwig van Beethoven, la sonata in re maggiore, opera 12, numero 1. Di Niccolò Paganini, il capriccio numero 11, dall'opera 1. E di Isaì, il capriccio, sullo studio in forma di waltz, opera 52, di Sinsan. Sarà accompagnata pianoforte da Iergeni Sinanski. Dopo questo concorrente ci saranno 10 minuti di intervallo. Grazie. 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 Grazie.